Che ci fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa. Andea, andea, a misura di braccio, a distanza di offesa, che la pace si pensa, che la pace si sfiora. Andea, andea. Due famiglie disarmate di sangue si schierano arresa, e per tutti il dolore degli altri è dolore a metà. Si accontenta di cause leggere la guerra del cuore, il lamento di un cane abbattuto da un'ombra di passo. Si soddisfa di brevi agonie sulla strada di casa, uno scoppio di sangue e un'assenza apparecchiata per cena. Grazie a tutti. Grazie a tutti.